Ehi Ferenichi, chi è questo qua? È Hulk Bravissima, e invece questo qui chi è? Obama ovviamente Ok, questo è un po' più difficile, chi è? Chirito Di? Di, SmartArt Online non mi veniva altissima Però l'ho visto, però l'ho visto Oggi giocheremo una mappa dove dovremo indovinare tutti i personaggi famosi di tante cose diverse Bellissima E ragazzi, come va? Io sono Ferenichi E io sono Stef, che si giochiamo a Roblox E oggi siamo in una mappa bellissima in cui dovremo cercare di indovinare tutti i personaggi famosi di vari temi Quindi non vedo l'ora di iniziare perché io adoro sto tipo di cose, sono felicissima E soprattutto, non so da quanto tempo non succedeva, ma non è un tre mappe in uno Faremo soltanto questa mappa perché merita davvero, davvero, davvero tanto E quindi vogliamo giocare Allora, ho visto che ci sono le persone famose della realtà I personaggi degli anime e poi i supereroi I, credo, i personaggi dei cartoni animati, giusto? I cartoni animati, suppongo di sì E al piano di sopra invece che cosa abbiamo? Al piano di sopra abbiamo le bandiere, le emoji I loghi delle varie aziende e gli animali Da che cosa vuoi partire? Allora, io li voglio fare tutti Tutti Facciamo, dai, supereroi Ok, vai, andiamo, 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 andiamo Ma dobbiamo scrivere tutti e due per andare avanti perché io li voglio vedere, giustamente No, basta che scrive solo uno, guarda, se siamo vicini Allora, aspetta Hulk Hulk Non so scrivere, ok? Hulk, ok, perfetto Poi, vai, scrivi tu, una testa Ah, perché una testa? Per darti fastidio Ma mi stai mettendo in difficoltà Allora, Thor dovrebbe essere scritto così Ovviamente Allora Spider-Man Spider-Man Ok Non lo vedo, aspetta Batman Batman Lo scrivo io, vai, sono più veloce Iron Man E vedi, questo È Robin Robin È di Teen Titans, giusto? Sì, Robin di Teen Titans Eh... Aspetta Aspetta Io non l'ho mai visto, devo essere sincero Perché stiamo così scarici? Sembra una specie di... Come si chiamava? Il supereroe è quello dei gatti Catwoman Catwoman, però maschile Infatti è bruttissimo Ascolta, metti Catman Ok Catman No? Dovrebbe essere Black Panther Come si scrive Panther? Con l'H senza H Con l'H, con l'H Con l'H tra la T e la E Black Panther Vai Ok, ok Wolverine 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 Poi, ehm Questo è l'uomo roccia Dei Fantastici Quattro Ma come si chiamava? Rockman Come si chiama? Rock No, ehm Aspetta, aspetta The Thing Perché mi pare che lo chiamano tipo la cosa Ah, la cosa Quindi The Thing Vediamo No Ma l'hai scritto? Sì Bastava cosa? Vai No, ma non so Ah sì, sono passata L'ho chiamata cosa e basta Ma questo c'è C'è pure scritto Ma dai Chi è che non conosce Superman Alla fine Deadpool Ok, dai Stiamo andando di nuovo bene Capitano America Green Lantern Credo Sì Green Lantern Sì Ok Perfetto Doctor Who Giusto? Sì Ok Andiamo avanti Non me l'ha dato Forse perché Doc Aspetta Aspetta Ho il dubbio Magari scritto male No Come lo possiamo scrivere? Allora non è Doctor Who Secondo me sì Cioè se non è lui È una figuraccia Non l'avevi guardato Doctor Who Ok, va bene? Non ho mai visto il film Poi non lo so Però è lui No, è lui Ne sono sicuro Quasi sicuro Ok Prova a fare una ricerchina No, voglio la conferma Perché è uscito il film Tipo qualche mese fa Ma non l'ho mai visto Esatto Ah, Doctor Strange Perché confondiamo le cose? Doctor Dovrebbe essere Vediamo Sì Sì, sì Flash Ah, Flash lo conosciamo Poi, come si chiamava questa? Wonder Woman Sì, brava Wonder Woman Dovrebbe essere lei Wonder Woman Si scrive così, no? Eh, evidentemente non lo so Aspetta Proviamo tutto attaccato Sì Sì, sì Poi Questo è fiamma Quindi Proviamo con Fire No Human Torch A quanto pare Ah, è perché la torcia umana In effetti Sì, è vero Ma non me lo ricordavo Ora mi è venuto Questo è il cattivo Dei Fantastici Quattro A questo qua piacciono molto I Fantastici Quattro Questo chi è? È Silver Surfer Brava Può essere? Sì, qualcosa del genere Proviamo così No Sì, vabbè Allora, mi ricordo i nomi dei tartarughe ninja Ma non in base al colore Donatello No, Michelangelo No, è Leonardo È Leonardo Ok Adesso Donatello No Eh, ma non me lo ricordo Sì, va bene Ma quanti ne mancano Scusate Eh, però infatti Siamo tutti fermi qua E non me lo ricordo Su, qualcuno googli Quanti siamo? Siamo in cinque Siamo Almeno uno che sta googlando Questo qua è importantissimo In X-Men Però anche X-Men 45 anni fa L'ho guardato È anch'io E poi di quelli che Cioè, non mi è piaciuto troppo Quindi non l'ho mai approfondito Sinceramente Esatto Non me ne vogliate però È alla fine andata così Dr. Octopus No, quello è quello di Spider-Man Dr. Octopus Eh, ci ha provato, poverina Quello di tentacoli Professor X Professor X È facilissimo Mr. X Professor X Vai Fatto per tutti Ah, che bravi Arrow Arrow Vai, tutti insieme Arrow Ah, Green Arrow No? Vabbè, Arrow si chiama Il telefilm è Arrow Non è Green Arrow Scusa Chi è? Forse è di Teen Titans Sempre Può essere Vabbè, l'hanno fatto Ah, perfetto La sono loro Approfittiamo Super Mario chi lo scrive? Su, su, dai che tanto lo sapete Bravissimi Finito Finito Io non ho domanda da fare Cosa c'entra Super Mario Tra i supereroi? Scusa Non lo so Non lo so Però facciamo finta di nulla Allora Cosa facciamo? Me li voglio fare tutti Non so decidere Negli anime Non ce la facciamo Ascolta Negli anime Quelli che riusciamo a fare Senza googlare Sì, ma Dai Io ricordo i nomi degli anime Non i nomi dei personaggi Vabbè, ha detto Let's do this Vai Vai, vai Chirito Vai Poi, ecco Già non mi ricordo Capito Aspetta Che si chiamava Era qualcosa con l'A? Sì Asuna 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 Ok No Asuna con la S Asuna Così? Sì, bravissima Sì, me lo ricordavo Vabbè, fin qua Goku Ok Poi Krilin Ok, dai Stiamo andando bene Con due L era Krilin? No, con una Krilin forse Con la K E con due L Ah, ok Va bene Naruto Stra easy Qualcuno lo scrive? Qualcuno? Davvero non conoscete Naruto Dove c'è Sasuke Ok Sasuke Perfetto Aiutami che non mi sta venendo Oddio Ci sto leggendo No, dai Non mi sta venendo È il maestro Eh Kakashi Ma perché non ci veniva? Io non lo so Cioè facciamo schifo Ricordarle qua Abbiamo la memoria di un cricetto Vabbè Qua non so come lo chiamano Perché ha 2000 nomi Proviamo con Rufy Il primo che mi viene No Allora Rubber Prova Dovrebbe essere Non mi ricordo come è scritto Rubber È quello il problema Eh, con due B dovrebbe essere Rubber con due B Eh, ma con la U Non mi ricordo proprio No, no Ma lui comunque ha 2000 nomi Quindi non è coltonia Eh, non è anche tipo Lufy con la F Sì Lufy di Monkey Qualcosa del genere Sì, potrebbe essere No Eh, proviamo con due F Sì Ok Eh, vedi Vabbè, Zoro Facilissimo Eh, Sanji Ahà Ok Bravo che se li ricordi tutti Poi lui è di Fairy Tail Il protagonista di Fairy Tail No, dai No Non l'ho mai letto Fairy Tail Mi dispiace Ho guardato 300 episodi Non l'ho mai finito Però Questa qua è inutile Stai prendendo il manga? Sì, non l'ho mai letto io purtroppo Allora Eh Allora devo andare a cercare il nome Ne abbiamo manga di tutti quanti Di tutto quanto guardo ormai Eh Natsu Vai Non In effetti non lo guardo da una vita Questo è normale Sì Qua Diventa complicato Se non mi ricordavo Lui È sempre di Fairy Tail Sì, sì, sì È sempre di Fairy Tail Io proprio non li conosco Fairy Tail È un po' l'amico Che un po' amico Un po' non è amico E poi sicuramente ci chiederà Anche la ragazza bionda Eh, ok Sì Ce li ho presenti Però non Non so i nomi Allora Qua me li scrivi Vediamo un pochettino Perché c'è un po' l'introduzione Dovrebbe essere Grey Sì Ok Vabbè Ash Ash Perfetto Pikachu Qua sono semplicissimi Charmander Che non so mai scrivere Però dovrebbe essere così No Sì, ok Poi Squirtle Ok Bulbasaur Quanti ce ne volevano mettere di Pokémon? Ma perché Pokémon poi? Levi Sì Dovrebbe essere Perfetto Poi Ichigo Ok 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 Eren Eren Ok Questo è di Fullmetal Alchemist Sì, vabbè Ma dai Dieci anni fa l'ho guardato anche questo Come ti chiamavi? Mi ricordo in nome delle cose che guardo Dovrebbe essere Edward Elric da Google E infatti eccolo qua Death Note Light 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 Yagami Di luce Ok L L Dovrebbe abbassare L così Oh yes Esatto, sì Questo qua è di Hunter X Hunter E c'è anche scritto E E buono Mi ricordo E' anche il personaggio più figo Eh l'ho capito Però se Cioè Non è che li conosco tutti Tutti Capito Quelli che ho visto me li ricordo Da più che altri sono cose che guardavo un sacco di tempo fa Eh appunto Come fa a ricordarti Diventa tutto più difficile Allora dovrebbe essere Vabbè c'è gente super esperta che si ricorda tutto Io non sono così Lo so Perfetto Cioè li guardo un mese dopo Non mi scrive neanche i nomi dei personaggi Quindi devo un attimino wikipediaare un pochettino meglio Allora Chi lua dovrebbe essere Vediamo I touch ovviamente E questo E' la prima cosa che Non ho la minima idea Non so C'è scritto anche qualcosa lì in alto Ma non l'ho mai visto Siamo fregati Non possiamo finire Non ho proprio idea Di che cosa sia Secondo me è tipo un cartone Degli anni 90 Tipo quello Trova la pietra No non è quel No adesso è mille No ma neanche per idea No è qualche anime Io non No non lo so Non l'ho mai vista Non lo conosco Cioè è la prima volta che non vi so dire Almeno qual è l'anime Allora Obama Obama Ok ma dobbiamo fare tutta l'America Trump Poi Clinton Hillary Ok Sony One Direction Suppongo di sì Credo Sì Lo erano Justin Bieber Che brutta foto che le hanno scelte Vabbè quando aveva 10 anni Vabbè Ok Ok Selena Gomez Giusto Sì Perfetto Poi Ariana Grande Con una N Ariana Sì Ariana Ariana Grande Ed Sheeran Ed Sheeran ovviamente Perfetto Dai che vergogna Morgan Freeman Sì Dovrebbe Però non mi ricordo Secondo me non è scritto così Ok invece sì Invece sì Chi è? Le Bronze forse Cioè giocatori Non ne ho la più Non ho mai guardato l'NBA Sicuramente non si scrive così Anzi no Era lui Vedi che ha giocato Sì sì Perché tu hai scritto Le Bronze Dimmi che basta Dart No Come si scrive? Vader Poi si pronuncia in modo diverso Insomma dovrebbe scrivere Sivader Esatto Eh no Star Wars Is too much for me Too much E poi non sono personaggi famosi Non esistono Sono personaggi di fantasia Accidenti Ma il tipo è molto confuso nella vita Cioè ma scusa Fammi per sé Prima Super Mario Nei cosi Nei supereroi Adesso personaggi di Star Wars Ha associato Super di Mario Super Mario Super E ok E adesso Trump con lui Cosa c'entrano? No ma dovevi mettermi personaggi famosi Non personaggi di fantasia di film Comunque adesso sapete che anche Star Wars è il nostro punto debole Sinceramente non ci piace proprio Devo essere sincerissimo No sinceramente non ne ho mai visto uno Star Wars perso Davvero? Davvero? E tipo forse uno una volta Ma non mi è piaciuto E non ho mai guardato gli altri Ti devo dire Guarda devo trovare il nome Aspetta qualcuno però sta arrivando Sì però Perché l'ho visto leggere Scriverete Sheeran Però scusami Yoda dai lo sapevi anche tu Su No È il robottino C C qualcosa No C Cheap Ancora? No questo è quello Ma questo è quello del film tristissimo? Non credo No è sempre E allora di che cos'è? Ah è sempre Star Wars dici? Sicura? Non mi prendere in giro Non sai nulla neanche tu Non sai nulla neanche tu Capito? Allora C3PO Cioè ma scusami Ma chi è che si dovrebbe ricordare queste cose? Vai Ok Sì Questo è il John Skywalker Luke Non è Luke C'è Darth C'è Luke no? Aspetta Aspetta Luke io sono tuo figlio È Luke No mi sa che lui è Obi-Wan Scusami Non è Luke Ignorante Ma come fai non riconoscere Obi-Wan? Questa cosa che è? È un personaggio di Roblox Non è famoso L'altro è la Stormtrooper E questo qua secondo me è Ian Solo Stiamo continuando con Star Wars Oh è uguale identico Forse è un Lan questo Aspetta Aspetta il film si chiama Han Solo Con l'H L'hanno cambiato tre volte Han? Tra film e libri Così? Sì Han Solo Così Yes Vedi 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 Cos'è sta palla? Boh Non lo so No vabbè Cos'è? Io me ne vado No basta Io me ne vado Cioè Cioè no ci hanno preso in giro Questo non è personaggi famosi Era Star Wars È basta È solo Star Wars Ma davvero non riesci a trovare 20 personaggi famosi da mettere? Io Dico gli attori e cantanti Stavamo andando così bene finché erano quello Accidente Allora io vado a farmi I loghi Dai i loghi Non so quanto sta durando questo video Non ho la minima idea Vabbè nel caso tagliamo i fallimenti Così sembriamo bravissimi sempre Giusto? Dominos No non hai capito Cosa? Dove sei? Ah quello dopo Comunque Io direi di fermarci così Speriamo che il video vi sia piaciuto È stato davvero divertente giocare questa mappa Ci sono ancora un pochettino di quiz da fare Quindi se vi piace molto questo episodio Magari ne facciamo un altro nel 3 map in 1 Dove finiamo appunto le nazioni E proviamo a finire questo Ma la vedo grigia Io ve lo dico Perché ne conosciamo davvero pochi Quindi fateci sapere se vi è piaciuto Nel caso lasciateci un bel commento Votate il sondaggio Lasciateci un bel like E ci fermiamo così Perché se è così Lasciateci un bel like E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima